ciao ragazzi volevo farvi vedere una cosa che mi sono creato da solo si esiste in commercio costa anche un pochino ma visto che a me piace sempre costruire con materia di riciclo e crearmi le cose mi sono creato sto usando il telefono come riflettente la reflex non sto registrando la reflex sto registrando con l'iphone voglio farvi vedere questa splendissima diciamo così per se fa un po cacare come estetica questa cover che io l'ho chiamata cover macro personalizzata in poche parole è una cover dei cinesi pagata 2 euro ho messo dove c'è il buco della fotocamera questa lente che è in poche parole la lente di ripresa delle vecchie telecamere dove metti l'occhio ok? ora direte e che può fare questa lente molte persone me la ce l'ho fatta vedere dicevano che dicevano che è una stronzata no non dicevano che è una stronzata dicono che è inutile ok? ora questo video farà capire molte cose io sto usando la cover sta qui eh guardate aspettate la cover qui eh non sto dicendo cavolate non ce l'ho guardate aspettate che metto a fuoco vabbè non ho la cover eh sta qui ok questo è un telecomando smondato lo appoggio a terra ora io sto a una distanza più o meno di 30 centimetri forse di più si guarda già così metto a fuoco non è chissà che fuoco è se io mi avvicino e ora sto a che sarò a 5 centimetri neanche sto cercando di mettere a fuoco ma non la mette non so se vedete ok? lo fa anche da sola ma non metto a fuoco ok? ora metto la cover la cover eh vedrete sfogato perchè non sta qualcosa vicino quindi metto la cover la cover messa la vedete? vabbè vedrete sfogato avvicino eh se sta di se eh la distanza di che l'ho avvicinato è uguale ora l'ho avvicinato ancora di più eh ora ora vedremo di cercare di leggere il componente che sta qui ok? certo che con questa cover serve la luce perchè non potrete utilizzare il flash perchè sennò riflette dentro ok vedete vedete ora si riesce a leggere il 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 componente il numero del componente ed è molto bella molto bella questa cover che mi sono creato onestamente non so se sarà pari di quella comprata ma comunque penso che che vi riuscirete molto a divertire molto a divertire dovete stare molto 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 fermi ecco qua vi potrete avvicinare di più ma serve la luce io ora non ho una luce con me comunque guarda come mi allontano e ci ho sfogato perchè è solo per il macro io ora avvicino eh vedete tutte le piste vedete tutte le piste vedete tutte le piste quindi aspettate aspettate che la levo ho levato la cover ripete ragazzi questa cover a me mi piace mettete mi piace condividete il video se vi va solo se vi va io metto i video su youtube solo per passione voglio che le persone vedano quanto è facile realizzare queste cose con semplici cose usate io ho preso questa cover e l'avevo comprata per il telefono poi l'ho modificata per un motivo che avevo messo la pellicola al telefono e questa me la facevo spiccicare però poi l'ho buttata perchè guardate si è rotta quindi io quella la la uso solo ora per i macro ciao ragazzi e alla prossima